bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti di video oggi è davvero interessante quello di cui parliamo la prima cosa è la nuova collaborazione di fortnite con twitch che vi permette di vincere un bel po di premi in una maniera davvero semplicissima si parla anche di vbucks vi faccio vedere tutto annunciato poi finalmente l'ultimo eroe marvel in arrivo o il penultimo venom e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento davvero mega interessante fortnite più twitch creators challenge che cos'è ragazzi è una nuova collaborazione appunto di fortnite con twitch non succedeva davvero da tanto una collaborazione così importante che permette a tutti di vincere dei premi passando semplicemente alcuni step cosa dovete fare innanzitutto numero uno bisogna andare nella pagina creators challenge punto fortnite punto com ci spostiamo un attimo anche se non mi vedete non vi preoccupate questa è la pagina ragazzi che ci interessa e come vedete ci sono tanti step la prima dove sto andando sul ferro di cavallo poi ci sono i v bucks poi c'è un banner poi c'è un emote un emote per twitch un'altra emote per twitch e addirittura 100 beats da poter investire guardiamo un attimino cosa bisogna fare sono semplicemente tre step ragazzi almeno per quanto riguarda la prima challenge vi faccio vedere link your twitch account quindi una volta che voi cliccherete sopra qua e se non avete ancora fatto vi farà linkare appunto il vostro account di twitch con questa pagina e vi si spunterà automaticamente poi gioca 20 minuti in solo mode una volta che avrete appunto allacciato e che qui c'è questa spunta potrete appunto giocare 20 minuti e fare questa e come ultimo follow creators account ci sono tre account dei creator come vedete in questo caso stiamo guardando al volo nate hill ma ce ne sono anche altri due vi basterà semplicemente andare sulla sua pagina e seguirlo appunto per avere la spunta c'è attenzione da dire una cosa qua dice aspetta 10 minuti se ancora non ti si aggiorna potrebbe volerci anche un'ora come è chiaro ovviamente una volta completati i tre step si andrà nella seconda fase quella dei 100 v bucks e così via ragazzi come vedete scendendo si vede che ci sono ancora 5 giorni 17 ore 51 minuti per poterlo completare una cosa davvero bellissima perché sono v bucks 100 v bucks gratis e dei premi per il nostro account di fortnite quindi bellissima questa iniziativa insieme alle sfide alle challenge appunto da completare c'è anche il global goal quindi questa invece è una cosa che succede per tutti quindi tutti i giocatori che fanno uno degli obiettivi si accomunano come vedete in questo caso guarda gli stream di fortnite dei creator partecipanti qua siamo a 10 milioni di ore guardate ce ne sono state 990 ma è appena iniziata e poi il secondo ragazzi giocare a fortnite semplicemente in solo in duo in squad per un totale di 10 milioni di ore anche qua 982 ma è appena iniziato quindi è una cosa che dovrebbe essere fattibile mi raccomando seguite gli step e buona fortuna a tutti voi per completare le vostre sfide e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un altro grande argomento direttamente dalla pagina twitter di fortnite viene pubblicato il pugno il braccio di ferro e il ragnetto come capite ragazzi si tratta di venom l'ultima cap marvel che ci sarà proprio oggi 18 novembre e che permetterà ai migliori partecipanti di guadagnare in esclusiva il set di venom c'è una immagine che sta girando adesso tra i vari forum sui vari video dedicati a fortnite e questo dovrebbe proprio essere il nostro venom con una forma più o meno simile a quella che dovremmo vedere in game vi ricordo che se non potete giocare in europa che dovrebbe essere dalle 17 alle 20 vi basterà cambiare i server semplicemente per poter giocare in orari diversi io ad esempio le ho fatte tutte in asia quindi la mattina alle ore 10 partecipando comunque anche a quest'ultima cap secondo quanto ci avevano detto la prima volta nel mese scorso si otterrà il deltaplano in omaggio se avete ovviamente partecipato a tutte le altre tre coppe marvel stiamo vedendo anche un'altra immagine che può sembrare un po particolare ma è molto curiosa praticamente questa dovrebbe essere la scia dedicata a venom che è presente nei file di gioco ovviamente non si riesce a capire quasi nulla ma sappiamo che è dedicata a lui e anche questa è un'altra immagine che fa parte dell'effetto grafico quindi aspettiamoci di vedere magari qualche cosa insieme alla skin sempre dedicata a venom e arriviamo a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda l'aggiornamento questo video è registrato intorno alla una del 18 novembre quindi qualche ora fa l'ho registrato ragazzi non c'è ancora nessun messaggio di update questa è la settimana dove dovremmo vedere la patch 14.60 e nelle ultime ore del pomeriggio di ieri è stata buildata tra virgolette la una nuova versione della patch 14.60 questo vorrebbe dire che in realtà non era ancora pronta per essere rilasciata dato che siamo già negli staging server ci auguriamo che la versione 240 la build 240 possa essere quella definitiva e questa settimana possa uscire l'update l'ultimo update della season 4 che poi ci accompagnerà ovviamente alla stagione numero 5 insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like aiutatemi a far salire il video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao